Anche se non è nostra competenza, fatemela fare questa riflessione, che settimana scorsa durante una messa fra Treviso e Belluno il parroco abbia vietato agli alpini di recitare la preghiera dell'alpino perché parla di difesa dei confini e difesa della nostra civiltà e settimana scorsa a Roma abbiamo visto un capoclan seppellito con tutti gli onori, con gli elicotteri, con le carrozze da un altro parroco, tenete gli alpini in chiesa, non i mafiosi, i mafiosi devono stare fuori dalla chiesa